oi mamma, mamma tutto bello a me inserito, è bellissima mamma io e Biagio Izzo stiamo nello stesso camerino condividere, condividere il camerino come Biagio Izzo e la Personage Place, è bellissima, è bravissima si, si, no, stiamo provando un personaggio nuovo e qui è proprio forte si, si, no, ma spesso qui non ci sta il camerino si, si, no, ma spesso qui non ci sta il camerino si, si, non è poco ordinato come me però è una persona splendida, è proprio brava ma i vestiti, il primo, il secondo, è in ordine di uscire le devi mettere, Ciro, se no che stai a facca no, in due studi sta provando, mamma, va bene Ciro, una sepi no, lo devi pulire, sapete che puoi... si, no, devo soffiare il naso, il naso è ma bu, mamma, si, si, no, no, ma è nata cosa che piace ma sì, ma, Ciro, beh dai, una passatina a terra, guarda ca ma no, me vuole bene, me vuole bene assai me vuole bene assai, sì, me vuole bene assai ciro, 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 ciro ciro, ciro, che bravo, fin qui? sì, no, sei delici, ma andiamo vabbè, andiamo a fare non vi cuore, non ci faccio mi vuole bene asci, ma mi vuole bene assai, si, si, mi vuole bene assai Grazie.